Dopo Saraniti e Tiscione destinati al salto in Lega Pro grazie agli accordi con Chievo e ACR Messina, il città di Messina perde un altro pezzo pregiato. Il centrocampista Gioacchino Giardina ha raggiunto infatti l'accordo con la Vibonese, che fino a due anni fa militava in seconda divisione, e si candida adesso a un ruolo di protagonista nel prossimo torneo di Serie D, che metterà in palio un doppio salto in una virtù dell'annunciata riforma che porterà all'accorpamento dell'ex C1 e C2 in una terza serie unica. Il rosso-blu lo hanno annunciato in una conferenza stampa, bruciando le tappe rispetto a tante altre concorrenti. Classe 1988, centrocampista centrale, Giardina arriva a Vibo su indicazione del tecnico Antonio Soda, che ne ha apprezzato le qualità espresse nell'ultima ottima stagione, in cui con il città di Messina ha collezionato ben 27 presenze, realizzando sette reti, sei in campionato e una in Coppa Italia, in cui ha deciso, con uno splendido calcio piazzato dal limite dell'aria, il derby con la CR. L'apporto nella società di Continibale e Deleu si era concretizzato dopo una breve esperienza nel Torregrotta, formazione di promozione del centro di cui è nativo. Per Giardina, alla Corte di Rando, ben 67 apparizioni e 9 gol. In precedenza, 12 gare nella CR Messina in Serie D e soprattutto ben 48 oggettoni in seconda divisione con l'Igea Virtus tra il 2007 e il 2010. Ma è stata soprattutto l'ultima annata, quella in cui ha mostrato grandi doti balistiche, sia sul calcio piazzato che in fase di assistenza ai compagni. Per i peloritani, insomma, una defezione di non poco conto, anche se dopo l'ingaggio di Avola, era stato tuttavia costretto a contendere all'ex Nissa e ad assenzio una maglia da titolare. Nei prossimi giorni sono attese le prime decisioni da parte della proprietà, al lavoro, per cercare di bissare l'ottima stagione del sordio in Serie D, nonostante la serrata concorrenza. Nei prossimi giorni sono attenzione del sordio in Italia.